L'attesa ordinata all'esterno dello stadio Uganeo, la coda dei padovani per il tampone, i numeri raccontano di una crescita esponenziale dei test. Solo qui, in via Nereo Rocco, sotto la curva Fattori, si viaggia al ritmo di oltre 1300 tamponi al giorno. In totale, in tutti i punti tamponi dell'USL nella sola giornata di lunedì, sono stati eseguiti 6682 test tra rapidi e molecolari, una mole di lavoro che in appena due settimane è triplicata. Dalle scorse ore, in supporto al personale dell'USL, sono così arrivati i rinforzi dell'esercito. Diciamo che i colleghi dell'esercito vanno ad aggiungersi alla notratissima schiera di personale che abbiamo messo in campo. Come azienda si parla di decine di persone, faccia conto solo di Giusca, abbiamo 117, abbiamo contrattualizzato 117 giovani colleghi. La prima giornata è stata dedicata all'affiancamento da mercoledì. I militari saranno operativi due le equipe dell'esercito destinate a Padova, una andrà in supporto allo stadio Ganeo e una nel distretto di Albignasego, i due punti in cui il carico di lavoro è notevole. Il lavoro è no stop, sette giorni su sette. Lo ricordiamo, i punti tamponi, oltre a quelli dello stadio Ganeo, si trovano al distretto di Albignasego e Rubano per la cintura urbana, a Cittadella, Campo San Piero, Villa del Conte per l'Alta Padovana, mentre per la bassa sono operativi Monselice, Piove di Sacco che da mercoledì sarà trasferito nella nuova sede dell'auditorium di via Ortazzi. Di notte dalle 20 alle 8 del mattino è operativo invece il punto tamponi all'ospedale di Schiavonia e nel fine settimana all'ospedale dei Colli di Brusegana.